Termina 0-0 la partita casalinga dell'ora di pranzo fra Torino e Palermo, una partita senza grossi squilli, senza tante emozioni, palo da parte di Bianchi nel primo tempo, un'occasione gettata al vento da Vives sempre nel primo quarto d'ora. Nel finale invece le emozioni più interessanti con due occasioni per Meggiorini, una correzione di testa e poi D'Ambrosio che non ci arriva per metterla dentro e a tre minuti dalla fine la parata di piede di Sorrentino su una giocata debole da parte di Meggiorini. Il conto delle occasioni gol dice che il Toro avrebbe potuto meritare la vittoria, il fatto che la partita sia stata poco interessante e poco divertente invece poi alla fine dice che è giusto così. Sì, il Palermo e il Torino sono le due squadre che in questo campionato finora hanno pareggiato di più e quindi il pronostico è stato rispettato. Ci si aspettava magari di vedere qualche segnatura, niente di tutto ciò. Due note negative in casa Granata, la prima è quella dell'infortunio di Darmian, la seconda è quella della munizione per Cerci che dovrà saltare la prossima partita contro il Parma. La nota più positiva invece in assoluto della giornata è data dalla giornata primaverile, almeno quella c'è stata. Ve l'abbiamo fatta questa parte finale dalla panchina del campo dell'Olimpico.